I dati dell'ASL 5 sono falsati, forse perché mancano gli esiti di centinaia di tamponi. Fa discutere la denuncia fatta da una quindicina di medici di famiglia a Città della Spezia che lamentano la perdita di almeno 50 tamponi effettuati a loro pazienti. Un numero questo che, se moltiplicato sui 130 medici che operano in provincia, porterebbe a quasi 400 i tamponi smarriti. Eppure per l'ASL ne risulterebbero appena una quindicina, per lo più imputabili, lo aveva detto lo stesso Presidente della Regione Giovanni Totti, alla stanchezza di qualche infermiere alla fine del turno di lavoro. Da parte mia posso dire che io sono uno dei quindici. Io è una settimana che attendo l'esito di un mio tampone. Io sto bene, però sono chiuso in casa, in isolamento, non posso uscire perché non ho l'esito del mio tampone fatto mercoledì scorso. E posso parlare per altri miei quattro pazienti che stanno aspettando la risposta dei loro tamponi. Nella nostra chat di medici, diversi di noi lamentano la mancanza dei tamponi fatti ai propri pazienti. Io non posso quantificare il numero, ma sicuramente sono più di 15. E c'è di più. Statisticamente, affermano i medici, la Spezia mostra un dato tra i peggiori in Italia nel rapporto tra i contagi e i decessi, valore che si aggira poco al di sotto del 25% contro una media italiana del 12%. Da più parti si sono levate voci critiche per come in Liguria viene gestita l'emergenza Covid-19. Anche la rete femminile per la salute chiede a venga fatta chiarezza. Riteniamo, scrive la Presidente Donatella Ferrari, che il già avvenuto mancato test nei confronti di persone con sintomi e già a contatto con persone malate possa mettere a rischio di ulteriore effettivo contagio attivo o passivo. Se i pazienti non fossero ben gestiti, i miei quattro pazienti in attesa li sono perché li controllo io, non escono. Ma gli altri pazienti in attesa del tampone inconsapevoli potrebbero uscire e diffondere il virus. Quindi è questo poi anche un altro importante problema riguardo alla mancata comunicazione. Per il manifesto per la sanità locale, le notizie che arrivano dalle organizzazioni degli operatori sanitari sono preoccupanti. La risposta è una sola. Già prima dell'emergenza, l'ISA da Genova decideva l'organizzazione dei nostri servizi sanitari, depotenziando e destrutturando interi servizi e reparti. Di quella destrutturazione oggi tutti noi paghiamo le conseguenze. La nostra ASL non decide un bel nulla. Aspetta le indicazioni da Genova che, quando va bene, arrivano in ritardo. E il ritardo, concludono, in situazione d'emergenza si paga.